Sono il dottor Ambrogio Castelli, mi sono laureato trent'anni fa e ho iniziato all'età di vent'anni a seguire il mio primo maestro, il professor Michele Pellegrini di Firenze, dal quale io ho imparato letteralmente tutto. Sono il dottor Roberto Bertoloni, mi sono specializzato all'Università di Genova in chirurgia plastica ed estetica. Ormai sono trascorsi diciamo quasi vent'anni dalla specializzazione. Ho notato che collaborare con la Clinique mi toglie tanti problemi, primo la grande organizzazione che ha la Clinique, quindi mi ha tolto una segretaria, ne ho due prima, una me l'ha tolta perché mi organizzano tutto loro, fanno un planning, io so dove devo andare a operare, io so cosa devo fare, io so come devo comportarsi. Ormai è diversi anni che lavoro per la Clinique e direi che fondamentalmente si è rafforzato, ci siamo anche un attimino un po' più, anche migliorati sotto il profilo del rapporto Clinique e Medico. Direi che fondamentalmente Clinique offre diciamo un substrato al chirurgo che non offre nessun'altra struttura e nemmeno tanto più direi il discorso del medico nel suo studio ben privato. Mi fissano le sedute operatorie, quindi mi fissano le date per le visite mediche, quindi per me è come se avessi una mamma che mi organizza in tutte le maniere, quindi meglio di così non posso pretendere. Siamo una squadra e non siamo una persona isolata, direi che è fondamentale il gioco di squadra anche se c'è da dire che il chirurgo lavora sempre come individuo e quindi effetto a lui l'intervento.